Il nostro obiettivo è quello di affiancare Formez, non ci sostituiamo in alcun modo, siamo complementari, loro hanno la capacità di arrivare sui territori e di fare assistenza. Quello che vogliamo fare noi è incorniciare più in una direzione metodologica e scientifica sono quelli che possono essere i vari elementi di valutazione. Si parla tanto di best practice, ma una best practice ha un fondamento scientifico per essere definita best practice. Non è che basta un lavoro fatto bene e quindi per arrivare a definire una best practice c'è un certo tipo di ragionamento, un certo tipo di lavoro. Quindi il nostro contributo vuole andare in quella direzione, in modo che le commissioni e soprattutto poi il ritorno agli enti venga fatto con un certo approccio, una certa modalità trasversale.